Mister Zellettieri, terza vittoria consecutiva, 1-0 al Sant'Arcangelo, posizione play-off, agganciata, continua la scala dell'Aquila sotto questo nuovo segno del 3-4-3 che pare funzionare a meraviglia. Diciamo che è un periodo che stiamo facendo bene, soprattutto da un punto di vista dei risultati, questo per noi deve essere la base, assolutamente, dobbiamo stare sempre con i piedi per terra, umili, lavorare con voglia, determinazione, con passione come stiamo facendo e soprattutto pensare di partita in partita perché è un campionato difficile, ogni partita può riservare tante difficoltà e dobbiamo essere bravi a prevenirle e anche a curarle queste difficoltà. Quello che magari non ha troppo funzionato a Sant'Arcangelo agli ultimi minuti, forse troppa sofferenza al cospetto di una squadra che comunque pericoli veri per Zandrini non ne ha creati. Sì, dobbiamo pensare anche che non è assolutamente possibile imporsi, mi è piaciuto lo spirito della squadra nel primo tempo che al di là di tutto ha comunque cercato sempre di costruire il gioco, è stata propositiva, ha tenuto palla, un po' meno nel secondo tempo, anzi tanto meno, però ci sono anche gli altri avversari e ci sono gli avversari, quindi dobbiamo essere sempre attenti ad ogni situazione, comunque la squadra mi è sembrata sempre ordinata, soffriamo alcune situazioni dove dobbiamo lavorare sicuramente.